Nel territorio comunale i militanti hanno appeso uno striscione e una croce con una nota diffusa. In mattinata la sigla ha rivendicato l'azione riconducendo il clima dei fatti di Parigi. Un mistero che l'ISIS recluti in tutte le moschee del mondo con l'insegnamento di un Islam deviato, malato e violento. Si legge nella nota diffusa, a Forza Nuova si legge ancora, denuncia da tempo che questo Islam servirà solo per distruggere e creare il caos in Europa. Furto nel...